Ecco, è arrivato adesso il prefetto, si incontrano con questore ma si erano già incontrati, il sindaco è qua anche lui, il presidente della Camera di Commercio Nini Tramontana, adesso siamo pronti a partire con quella che è questa passeggiata anti-racket, vediamo se prima si fanno, facciamo le interviste al signor prefetto Massimo Mariani di Reggio Calabria. Lei è carenzato questo uomo. Intanto lasciamo salutare. Portato i ragazzi dell'allerta radio. Ah, iniziamo prima. Lei è il raporzio? Grazie a tutti, questa è la prima volta che si esplosiva del genere a Reggio Calabria, lo Stato insieme alle vittime, lo Stato lungo le vie principali della città, però ancora tanto bisogna fare per sostenere chi denuncia, lo Stato per essere credibile deve tutelare le vittime. Certamente, ma intanto deve farle emergere, deve aiutarle a denunciare e poi si può fare questo che dice lei, aiutarle. È chiaro che anche la struttura del commissario anti-racket deve rinnovarsi e ha tutto il desiderio e la voglia di farlo, ma tutte queste attività naturalmente passano per un lavoro di insieme tra le forze di polizia, il commissario anti-racket, le vittime, la società civile, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato anti-racket. Cioè è un mosaico che fa poi l'insieme, cioè tutte le tessere che insieme fanno il mosaico. Qual è il suo messaggio alla città di Reggio Calabria? Deve essere un messaggio di fiducia. Bisogna farne anche di più di queste manifestazioni. Io sono orgogliosissima di essere qui questa mattina e tornerò tutte le volte che mi sarà richiesto, perché bisogna far vedere agli altri, a quelli che ci recano questo genere di offesa e quindi alla criminalità organizzata, bisogna farglielo anche vedere che noi ci siamo, i cittadini, lo Stato, che poi siamo comunque sempre noi, la società civile. Che cosa è... E' soddisfatta della partecipazione di questa manifestazione? Devo dire che non so ancora dirlo, non siamo neanche partiti. Spero di sì. Ecco una domanda... No, dicevo, io spero di incontrare anche per la strada, insomma, lungo il corso di questa manifestazione, le persone. In questo momento non siamo neanche partiti, ancora non saprei dire. Ecco una domanda banale, ma che cos'è il pizzo? Oh, il pizzo sono tante cose. È il pagamento di una somma, ma può essere anche... Oh no, certamente non dovuta, ma può essere anche il caldo suggerimento ad assumere delle persone, anziché a utilizzare un certo prodotto invece di un altro. È comunque una forma di sopraffazione che leva la libertà a chi lo subisce. Ecco perché bisogna denunciare. E l'andrangheta ha delle modalità particolari, per chiederlo? Ma l'andrangheta è soltanto un fenomeno un pochino più difficile da leggere, perché ancora ci sono delle difficoltà da arrivare fino in fondo a capirla. Ma in definitiva le modalità sono sempre le stesse. Dimenticavo i furti, gli incendi. Sono tanti i modi per arrivare a un'estorsione e comunque alla sopraffazione. Quello è. La nostra libertà non è in vendita. Bene, la nostra libertà non è in vendita. Questa è la chiusura. Grazie.